Ciao Giulio, grazie mille di essere qui con noi Hotcorn. Tu qui a Cortina Metraggio hai un ruolo molto importante, sei membro della giuria, hai anche incontrato da poco i ragazzi. Ci puoi parlare un po' dell'importanza di un festival come questo e anche del tuo ruolo di giurato, come la stai vivendo? Intanto salve a tutti amici di Hotcorn, sono contento di ritrovarvi, vi seguo e vi apprezzo. Poi a Cortina Metraggio lieto di essere qua, di fare parte di questa giuria, è sempre un onore, è sempre un piacere quando qualcuno ti considera in grado o meritevole di giudicare delle opere, soprattutto artistiche, che è una misura difficilissima, non ci sono cronometri, non c'è un filo di lana che uno taglia per primo, non c'è un peso, una bilancia in cui dire ok, c'è dei dati certi, è un lavoro piuttosto empirico e complesso. Ed è importante, questo come tutti i festival di cinema perché aggregano forze, aggregano energia, aggregano cineasti, è una possibilità per il pubblico di vedere tante opere in un concentrato di pochi giorni e nello stesso spazio, quindi si vive aria di cinema e di conseguenza di cultura perché poi quello è, almeno per me e per molti di noi, il viatico per far vivere e vivere la cultura attraverso l'audiovisivo. Tu sei uno dei registi più affermati del nostro cinema, anche per la televisione. Che cosa dici, che consigli dai ai giovani registi come quelli che stiamo vedendo qua a Cortina per affacciarsi a questo lavoro? Ma intanto di vedere tanta, 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 tanta opera di altri, cinema, film, corti, lunghi, seri, il più possibile. Faccio, dico loro spesso questo esempio, quando i ragazzi mi chiedono, Leopardi a sette anni traduceva dal greco e ha scritto i paralipomeni della batria, come la guerra, non è che capita così, capita perché lui aveva una grande biblioteca di suo padre che in qualche modo un po' lo costringeva, un po' la passione, lui cominciando a leggere e poi a un certo punto ha cominciato a scrivere. E vale per le lingue, non è che noi nasciamo sapendo l'italiano o il giapponese o qualunque lingua, lo ascoltiamo e poi cominciamo a pronunciarlo. E poi nel cinema è la stessa cosa, se ci nutriamo di, beh, intanto bei film, consiglio soprattutto quelli, dalle basi, insomma di studiare sostanzialmente, di informarsi, di studiare, vedere cinema. Il linguaggio poi verrà, certamente poi ognuno deve trovare il proprio linguaggio, la propria voce, il proprio sguardo, questo sicuramente, ma intanto quello, di studiare, formarsi, documentarsi, applicarsi, vedere film. Parlando di festival, tu avrai questa nuova avventura, il Torino Film Festival, la prossima edizione, parlaci un po' del festival, di quello che è la tua visione, che cosa ci dobbiamo aspettare. Ma guarda, intanto sono elettrizzato ancora euforico perché per me è una nomina che mi ha dato un grande onore, un grande responsabilità, un grande gioia. Sono nato, sono cresciuto a Torino, ho tanti cari, insomma tutti i posti della mia vita, là, ma non solo là in città, proprio là vicino al Cinema Massimo, la Mole, la Rai, insomma proprio quella era la mia cameretta, torno proprio nella mia cameretta, nel mio lettuccio. E questo zona onore, zona poi dovere, siamo al lavoro, dalla prima ora mi sono messo al lavoro, tant'è vero che anticipando di moltissimo i tempi regolari abbiamo già annunciato una retrospettiva che sarà dedicata a Marlon Brando, nel centenario, anche quello lo prendo come un regalo della vita perché io essendo una specie di ossessionato di Marlon Brando, nonché, lo dico senza falsa modestia, un forte conoscitore, mettiamola così, di libri, di film e di quello che è appunto il pianeta Marlon Brando. Mi chiedevo due o tre anni fa, quando questa nomina di direzione era proprio lontana, dove sarei andato a seguire le celebrazioni del centenario, a vedere una retrospettiva. Che la vita mi abbia concesso di essere io e poterla proporre agli spettatori di Torino e non solo è veramente una grande gioia. Di conseguenza abbiamo già tirato fuori, si dice così, il manifesto, che è una, credo, bellissima fotografia di Marlon Brando, che guarda dritto proprio lo spettatore. La cravatta. Esatto, brava. note anche la semiotica, la cravatta rossa con dietro delle luci, lui che ti guarda. Insomma, dà l'idea di, appunto, sicuramente di un ammiccante, sicuramente di un festival diverso. Diverso nel senso che, pur essendo ribelle, perché poi Marlon Brando è stato controcorrente, anticonformista di tutti i tempi, però in quell'occasione ti guardava sornione sistemandosi un po'. Ecco, e là, diciamo, ho detto tutto per quanto riguarda la forma. Per quanto riguarda i contenuti, non arrivo certo io a sconvolgere un festival stupendo, amabile, indipendente, libero, che tutti amiamo, graffiante, cinefilo, autoriale. Quello rimarrà la colonna vertebrale, non la tocco, non la toccherò. Ci sarà un forte snellimento, questo sì, ma lo dico da frequentatore di festival. Spesso c'è una giungla di titoli, di sezioni, nelle quali a un certo punto tu hai come la sensazione di smarrirsi, di non poter vedere tutto, e alla fine non ti dico che non vedi niente, ma ti scoraggi un po'. E vedo che anche voi, della stampa, i giornalisti, la carta stampata, insomma, tutti un po' storcono il naso. Invece farò un festival snello, agile, snello, sei sezioni, chiare, tonde, pulite, dove tu sai cosa vedi, negli stessi orari dove il concorso, dove i documentari, la retrospettiva, senza notti speciali, fuori speciali, fuori programma, sezioni, sottosezioni, bello, pulito, snello. Anche in queste sezioni ci saranno dei piccoli grandi cambiamenti. Il primo è che il concorso sarà per la prima volta proprio in anteprima mondiale, quindi un concorso, usiamo il termine, di serie A, e speriamo di essere all'altezza dei grandi festival internazionali. Il concorso documentari, con un'altra grande innovazione, perché c'è sempre stata una distinzione tra documentari italiani e documentari internazionali, abbiamo accorpato in un'unica grande sezione, mi pareva ormai il cinema evolve, Torino evolve, un piccolo ghietto solo di documentari italiani, invece nel documentario internazionale è concorso per tutti, dove daremo ovviamente spazio ai giusti documentari italiani, che se lo meritano, in anteprima italiana, il concorso corti, stessa cosa, non ci sarà più distinzione fra italiani e stranieri in anteprima europea, una nuova sezione a cui ho messo un nome, mi viene il sorriso perché la parola mi sta simpatica, che è Zibaldone, pur essendo poi una parola leopardiana, cioè è stata la collezione dove Giacomo Leopardi, la collezione dove lui metteva tutti i suoi appunti, il canovacide, eccetera, e dà l'idea sì di questa simpatia onomatopeica del nome, ma dove lì, ecco, tutte quelle che sarebbero le sostosezioni, là dentro, in questo calderone, quindi nessuna distinzione di data, di forma, di durata, videoarte, serie, film vecchi, nuovi, restaurati, tutto in questa grande sezione, grande poi nei limiti della snellezza dei titoli che ho detto, il classico fuori concorso dove cercherò dei film anche più popolari e la retrospettiva di cui abbiamo parlato con 24 titoli di Marlon Brando nuovi, nuovi di zecca nel restauro, intendo. Beh, ci aspettiamo grandi cose, non vediamo l'ora di... Ho dimenticato, scusa, è un po' lo gorroico, ma mi hai chiesto una cosa che mi sta a cuore, forse l'innovazione più importante è la nuova squadra di selezionatori, sono sei selezionatori giovani, ultra giovani, il più anziano è del 91 e poi ho due ragazzi, uno del 2000 e uno del 2001. Giovanissimi. Questo ti dà l'idea della squadra e di quanto il festival, che una volta si chiamava internazionale cinema giovani, torni a questa spinta di gioventù che tutti ci auguriamo. È un po' un cerchio che si chiude, no? Mi dà l'idea, Torino, tu che sei di Torino, Marlon Brando, questa tua passione, racchiude un po' tutto. Sto cercando di mettere dentro ovviamente le cose belle, che sono sicuro non tradiranno lo spettatore del cinema giovani, ecco, vedi, faccio l'absus, lo chiamo ancora come quando fu fondato, che poi io c'ero nell'82, ero lì, c'erano appunto già Barbera, Steve della casa, Rondolino, eccetera, ero un ragazzino di 16 anni, però me lo ricordo quel giorno, ero fisicamente lì e quello spirito, ecco, vorrei tornare a quello spirito, pur mantenendo o diciamo cercando un rilancio dal punto di vista dello charm, questo di sicuro, che non vuol dire, arriva a base e fa il festival Glamour, no, però poi diciamocelo sinceramente, quale festival non vorrebbe tutte le star del mondo e tutti i buoni film, cioè, quello è la ricerca di tutti, no? Quindi, diciamo, sui buoni film manteremo la barra dritta, su qualche star cerchiamo di farla vedere ed ecco perché, anche questa, non l'ho detto, ma è un'ulteriore novità, ci sarà una grande apertura, un grande opening di Charme al Teatro Reggio di Torino, che è la culla della Liga di Torino, un teatro meraviglioso, il 22 novembre, con un grande film in anteprima internazionale, è, insomma, un'apertura con tutti i crismi. E parlando di film di qualità, non posso non chiederti di Margherita delle Stelle, che è il tuo ultimo lavoro per la televisione, la storia di Margherita Hack, che è interpretata da Cristiana Capotondi e che ha fatto un boom di ascolti, cioè è piaciuto tantissimo, il pubblico l'ha amato. Ci puoi raccontare un po' come si è svolta questa produzione, come è andato il lavoro e poi, insomma, anche un po' il senso di raccontare una storia femminile di una donna che è stata così importante per l'Italia e per il mondo. Sì, dunque, non facevo un film per la televisione da più di dieci anni, dodici per esattezza, quindi avevo cercato di concentrarmi di più sul mio cinema, avevo alzato anche un po' la stricella negli ultimi tempi, film proprio molto sentiti, quindi molto autoriali, per usare questa parola di quando uno fa un film che sente molto e per stavolta però non me la sono sentita di dire no proprio per il prestigio di questa proposta, di l'altezza di questo racconto, di questa donna, come hai detto te, di questo racconto femminista, per certi versi, che è una parola che non mi dispiace e nella quale mi sono sempre ritrovato, quantomeno dal punto di vista ideologico, ho sempre amato, ma non truffottianamente le donne, sarebbe banale, cioè le donne che sapevano e volevano conquistarsi un posto e di parità, ma anche di primizia quando se lo meritavano come Margherita. Il racconto mette proprio il pedale su questa attitudine di Margherita, che è stata una donna eccezionale, non solo quella scienziata che tutti conosciamo, ma una donna forte, libera, coraggiosa, volitiva, simpatica, simpaticissima, divulgatrice, anarchica, proiettiva, ha costruito l'osservatorio, prima insegnante all'università, prima direttrice dell'osservatorio, tutto in qualche modo nelle difficoltà di un mondo che era molto diverso da quello di oggi, dove le donne forse non hanno ancora la parità, ma sicuramente si muovono in acqua un pochino meno agitate e da allora era una rivoluzione totale. E quindi sono particolarmente felice di questo enorme successo di pubblico e viva Margherita. Grazie mille Giulio, grazie. Grazie a voi, viva Outcore.